C'era una volta un piccolo paese, nel piccolo paese c'era la grande multinazionale del chiodo, nel piccolo paese tutti parlavano di chiodi, perché tutti almeno una volta durante la vita avevano lavorato per la multinazionale del chiodo, avevano costruito chiodi, avevano raddrizzato i chiodi storti, avevano comprato, venduto all'ingrosso, al dettaglio, trasportato chiodi, tutti avevano lavorato per la multinazionale del chiodo o avevano scritto libri sui chiodi, tutti parlavano di chiodi, alla fine dell'anno quando si incontrarono i consiglieri d'amministrazione della multinazionale del chiodo si accorsero che il profitto quell'anno non era cresciuto, non era neanche diminuito rispetto all'anno precedente, ma non era cresciuto, il piccolo presidente disse che un'azienda che non cresce è un'azienda che muore, doveva crescere quel suo profitto, però come si faceva a vendere più chiodi? Già di chiodi ce ne vendevano tanti, in alcuni settori per esempio il chiodo era assolutamente monopolista, prevalente, preeminente, tipo per esempio per attaccare un quadro su un muro si usa il chiodo, si usa mica lo scotch, però c'erano dei farignami che quando costruivano mobili, li costruivano un po' con i chiodi e un po' con le viti, la vite era un brutto concorrente per il chiodo, allora bisognava colpirla con la multinazionale, ma visto che la multinazionale della vite era molto molto forte, il piccolo presidente si informò e i suoi tecnici gli dissero, piccolo presidente, alcuni preferiscono le viti perché sono tecnologicamente più avanzate, le vite si può avvitare, svitare, svitare e il piccolo presidente così si comprò la fabbrica dei cacciaviti, la comprò per chiuderla, adesso che non c'erano più cacciaviti in giro per il piccolo paese, nessuno poteva più avvitare le viti che aveva dentro casa e le viti che erano infilate nel legno vi rimanevano per l'eternità, tumulate, sepolte là dentro, alla fine di quell'anno infatti il profitto della multinazionale del chiodo crebbe enormemente, tutti erano contenti, tranne il piccolo presidente, perché il piccolo presidente pensò a come è cresciuta questa nostra agenda, non crescerà più, allora bisognava battere, sconfiggere la concorrenza, un brutto concorrente del chiodo era effettivamente la colla, i tecnici mi dissero il piccolo presidente, ma la colla è imbattibile, in alcuni settori ha il monopolio ovviamente, per esempio sui francobolli, mica la puoi inchiodare su una cartolina, il francobollo ci vuole la colla, però poi il piccolo presidente l'esse si informò e scoprì che in alcuni paesi, particolarmente poveri, alcuni speciali tipi di colla vengono sniffati, usati come droga, certo che non tutta la colla è droga, però il piccolo presidente aprì la campagna tolleranza zero contro la colla, disse non esistono colle leggere e colle pesanti, la colla è colla e va sconfitta e eliminata, e così alla fine di quell'anno la colla scomparve dal piccolo paese e il profitto della multinazionale del chiodo crebbe ancora, tutti erano contenti, tranne il piccolo presidente, che sapeva con certezza che adesso da quel momento in poi il profitto non poteva proprio crescere, ora l'unico vero concorrente del chiodo era il chiodo medesimo, così allora il piccolo presidente si mise d'accordo col governo e partì con la rottamazione dei chiodi, i piccoli cittadini che portavano i loro chiodi vecchi e arrugginiti alla multinazionale del chiodo avevano in cambio dei chiodi identici, ma però nuovi e a metà prezzo, ancora per una volta alla fine dell'anno il profitto crebbe, ma il piccolo presidente era distrutto da questa notizia, perché sapeva con certezza, adesso con certezza che i record degli anni precedenti era impossibile eguagliarli, a quel punto il piccolo presidente pensò che l'unica via d'uscita era fondersi con un'altra grande multinazionale, l'altra grande multinazionale del piccolo paese era la multinazionale della fede, ma tutti sapevano che tra la fede e il chiodo non c'era niente a che spartire, però visto che chi amministra e non minestra becca un colpo nella testa, i teologi e i chiodologi si incontrarono e si misero d'accordo, per prima cosa dissero che il chiodo non era stato ancora sfruttato a sufficienza, per esempio con i chiodi si potevano fare anche i mobili interamente, fare letti di chiodi, ci dormivano i fachiri, ci potevano dormire tutti, si poteva per esempio fare lo sport col chiodo, finalità del calcio poteva essere bugare la palla dell'avversario e non segnare in rete, i chiodi per esempio potevano essere utilizzati come vestiti, si potevano fare delle mutande chiodate, d'altra parte la multinazionale della fede aveva già il copyright sul cilicio, poteva avere anche le mutande chiodate e poi si potevano mangiare i chiodi, perché i chiodi fanno bene, contengono ferro i chiodi, si poteva anche pregare per il chiodo, il piccolo presidente della multinazionale del chiodo e il piccolo presidente della multinazionale della fede si incontrarono in televisione a reti unificate, dissero effettivamente anche nostro Signore Gesù Cristo quando stava in croce ebbe forse un ripensamento quando chiamò Elia, Elia perché mi ha abbandonato, se non ci fosse stato il chiodo che lo teneva inchiodato al suo destino, la storia avrebbe preso un'altra strada, perciò adorate Cristo ma adorate anche il chiodo. Da quel giorno le generazioni avrebbero pensato solamente ai chiodi, per le nuove generazioni un mondo senza chiodo non poteva esistere, per loro pensare ad un mondo senza chiodi equivaleva a pensare ad un mondo senza mondo.